Ho messo a posta degli elementi in questo album, elementi importanti per me quando ero ragazzo. Il titolo viene da qualcosa che dice uno dei miei personaggi, la canzone è Letti Dubbo, è la cosa che lo spinge, che non ti dà la scelta, lui farebbe canzoni in ogni caso, scriverebbe, farebbe musica in ogni caso, questo è il suo mestiere, ha provato altro ma non fare altre cose così bene come quello che fa. Forse tutto iniziò con il primo album dei Dire Straits, quel successo ha fatto sì che le persone non pensavano di potermi dire quello che io dovevo fare. Il primo album è giocatore d'azzardo, questa è la sfida di sapere che potresti perdere tutti i tuoi soldi. Sì, le riunioni forse fanno proprio parte del business perché la musica dal vivo oggi è in ottima salute, tutto il resto non è tanto. Alla persone piace vedere la cosa vera, se è vera. Mi piacciono gli errori, col tempo suonano meglio, non so perché, molti errori sono fortunati. Ci sono molti errori, molti errori, molti errori, molti errori.